Ciao a tutti, oggi è giovedì 3 maggio 2018, sono qui dove c'è il ponte Tiziano, vedete? Sono venuto a fare un giro per vedere la passeggiata Sisto e la piscina, ma sono stato convinto a fare un altro video, allora adesso vi faccio vedere, guardate qua, ho tribulato tanto per fare chiudere l'alloggio qui che c'è sotto il ponte, vedete le grate e qui addirittura vedete su questo pianoro alloggia probabilmente tutta una famiglia, vedete qui quello che c'è a terra, vedete? questo è quello che c'è, ci sono materassi, indumenti, guardaroba, tutto quello che serve e in più, dato che dove dormono non possono né pisciare e neanche defecare, vi faccio vedere dove vanno, allora salgono su, vedete, salgono su, vengono qui dove c'è il cancello e io già in questo punto qui dovrei chiamare la ASL per il puzzo che c'è perché ai piedi di questo cancello ci sono tutte defecate e urinate, guardate la distanza che sono dal cancello, io sono in questo punto qui, vedete, sono appena sceso dalla discesa, scusate il giro di parole, sono a metà di questa discesa e già sento un puzzo nauseabondo, guardate qui, lì a terra ci sono tutte defecate, io non posso andare più avanti perché mi sento già svenire a questa distanza qua, adesso pubblico questo video, avviserò la amministrazione che c'è questo fatto qui, perché allora in Alessandria purtroppo e ripeto purtroppo non c'è nessuno che controlla il territorio comunale, allora dovrebbe esistere perché secondo lo statuto ci deve essere, però non viene effettuato, l'unica scusa è carenza di personale, ovvero personale che scende dalla macchina perché probabilmente arrivano lì in macchina, non scendono e proseguono, il controllo a piedi non viene più fatto, non possono passare di lì, guardare è tutto a posto, guardate qui se è tutto a posto, guardate, vedete è tutto a posto? Non lo so, ma noi portiamo della gente in Italia, la si va a prendere sulle coste libiche per sbattere sotto i ponti, poi dopo parlano di razzismo, poi dopo parlano di schiavitù, sempre belle parole che si sentono, va bene, io dal ponte Tiziano, vedete è qua, io vi saluto e invito chi deve controllare, chi deve sbarazzare tutta questa roba, si metta la mano sulla coscienza, va bene, ok, ciao a tutti grazie 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 grazie